In questo capitolo vedremo uno dei nuovi moduli di Lightroom, il modulo libro, che ci permette di impaginare dei veri e propri fotolibri. La prima operazione da fare per creare un fotolibro è quella di scegliere le immagini che vogliamo impaginare. In questo caso mi sono creato una quick collection, cioè una raccolta rapida, con le immagini che voglio andare a impaginare. Si tratta di immagini scattate a Berlino. Le possiamo riordinare nell'ordine in cui vogliamo utilizzarne nel fotolibro. Come vedremo, il fotolibro ha una funzione di importazione automatica che è molto comoda per dare una prima impaginazione e quindi possiamo sfruttare al meglio questa funzionalità se la mettiamo già nell'ordine corretto. Una volta fatta questa operazione, possiamo passare al modulo libro. Il modulo libro utilizzerà queste immagini, come vedete nella filmstrip, nei provini. vedete che le immagini sono nell'ordine in cui le avevo posizionate all'interno della collezione rapida e possiamo cominciare a lavorare con le impostazioni del libro. Una cosa molto importante, per cui torno alla libreria per un attimo, è quella di andare a valorizzare le didascalie delle nostre immagini, perché così potremmo ottenere il fotolibro con la didascalia già valorizzata in automatico, senza doverle poi andare ad aggiungere. Questa cosa è molto importante perché ci consente di avere la didascalia memorizzata direttamente nell'immagine, senza doverla poi modificare ogni volta che dobbiamo eseguire un output. Se la didascalia infatti si trova nell'immagine, può essere utilizzata da tutti i moduli di output di Lightroom e non soltanto dal modulo libro. Se invece le inseriamo a mano all'interno del libro, sarà visibile soltanto in quel libro specifico. Possiamo quindi selezionare tutte queste immagini che fanno riferimento al Parlamento tedesco e possiamo nei metadati, attivando magari la visualizzazione di didascalia grande, possiamo andare a inserire la didascalia. Naturalmente adesso sto facendo un'operazione massiva su più immagini, ma è bene che ogni immagine abbia la propria specifica didascalia. Però potremo andare a caratterizzare poi ulteriormente selezionando alcune immagini e specificando meglio il tema della fotografia. Attraverso il modulo Libreria è molto semplice andare ad assegnare una didascalia per ogni immagine. A questo punto ritorno nel mio modulo Libro e andiamo a vedere quali sono le funzioni principali, per poi vedere nelle prossime lezioni i dettagli. Intanto dal menu Libro possiamo andare nelle Preferenze Libro. Questo ci serve per dare delle preferenze di massima per l'esecuzione del libro. Ad esempio possiamo andare a definire come le immagini vengono adattate alle pagine, o alla propria area di appartenenza. Possiamo eseguire lo zoom in modo che venga riempita tutta l'area dedicata all'immagine oppure possiamo ingrandire per adattare. In questo modo ogni immagine sarà mantenuta proporzionalmente e sarà tutta visibile all'interno della pagina. Nella parte sotto vedete che possiamo utilizzare come riempimento delle caselle di testo direttamente la didascalia dai metadati. E questo è molto importante perché ci fa guadagnare un sacco di tempo. Potremmo anche usare un testo di riempimento fittizio se vogliamo avere un'idea di come verrà un fotolibro, ma non abbiamo ancora caratterizzato tutte le immagini. Quindi partiamo con il metadati di escalia. Possiamo anche avere un limite che ci impedisce di posizionare il testo troppo vicino al bordo della pagina e quindi con il rischio di essere tagliato. Una volta date queste prime impostazioni di massima al libro, possiamo andare a decidere alcune cose riguardo al formato e all'impaginazione. Vedete che nel primo pannello, nella parte destra dell'interfaccia, abbiamo la possibilità di decidere se il libro viene caricato poi in Blurb oppure viene esportato in PDF. Questa scelta ci condiziona la parte sottostante, perché naturalmente se noi impostiamo Blurb come uscita, come output, avremo la possibilità anche di vedere, di scegliere il tipo di carta direttamente da qui e di conseguenza il logo di Blurb se viene attivato oppure no. Naturalmente se lo lasciamo Blurb sconta il prezzo e possiamo vedere direttamente il prezzo in euro o nella valuta che preferiamo. In base a questi parametri, quindi se per esempio non voglio avere il logo di Blurb, avrò un aumento di prezzo. Se decido di utilizzare un formato più grande e quindi vado a modificare il layout, avrò anche qui una variazione di prezzo. Con il link per saperne di più, naturalmente veniamo rinviati al sito di Blurb sulla pagina dedicata proprio a Lightroom e al nuovo modulo libro. Andiamo ora a scegliere il layout per l'impaginazione automatica. Come vedete abbiamo il layout automatico, potremo già eseguire un'impaginazione, però prima ci conviene andare a scegliere il predefinito da utilizzare. Andiamo a modificare i predefiniti, così vediamo quali sono le scelte che abbiamo a disposizione. Qui, come vedete, possiamo gestire la pagina di sinistra e la pagina di destra in maniera diversa. Potremo anche lasciare la pagina di sinistra completamente vuota. Oppure andare a scegliere tra i vari layout quello che più ci fa comodo o che più ci piace. Naturalmente dopo potremo andare a modificare qualsiasi pagina, però possiamo già dare un'impostazione di massima per il layout automatico, in modo tale che la maggior parte delle pagine siano già corrette. Nella parte di sinistra voglio mettere due foto. Scelgo due foto impaginate in verticale con un'immagine intorno. Qui sotto decido di adattare le immagini con la corrispondenza sul lato lungo, in modo tale che ogni immagine venga visualizzata completamente, mantenendo la sua proporzione. Aggiungo la didascalia della foto, allineata alla foto. Posso anche decidere di utilizzare uno stile del testo. Poi vedremo nelle prossime lezioni che posso creare degli stili di testo personalizzati. In questo momento scelgo didascalia sans serif. Nella parte destra invece voglio avere quattro foto, impaginate sempre con dei margini bianchi, in questo modo, con il riempimento delle immagini, sempre con la didascalia, con lo stesso stile. Questo qui è un predefinito che io posso salvare. mettiamo due foto più quattro foto. Lo salvo con questo nome. Una volta che l'ho impostato qui, posso procedere all'impaginazione. Sicuramente ci sono delle modifiche da fare, però un'impaginazione di massima già ce l'abbiamo. Nelle prossime lezioni vediamo come andare a manipolare questa impaginazione.